Questa nuova gara nel Continental Challenge è molto importante per il raggiungimento di un ambizioso traguardo personale, perché apre le porte ad un sogno, giocarsi per la terza volta il titolo mondiale del circuito, imprese in cui nessun altro è riuscito. Così l'ultra maratoneta di Sala Consilina Giuseppe De Rosa ha la partenza per la Ultra Norway Race, organizzata dal circuito francese Canal Aventure, già noto al campione che si svolgerà da oggi fino al 21 luglio in Norvegia, 350 km a nord del circolo polare artico. L'Ultra Norway Race è un'ultra maratona non-stop di 140 km in autosufficienza alimentare, con 9.000 metri di dislivello positivo e negativo. Il tempo limite per percorrere l'intera distanza è di 48 ore. Per essere autorizzati a proseguire la manifestazione, i corridori dovranno rispettare i tempi limite per il passaggio ai vari posti di controllo. Un supporto tecnico ed un'equipe medica saranno presenti durante tutto l'evento. Per me è davvero un privilegio ed un onore continua De Rosa ritornare nel circuito del Continental Challenge, di cui sono campione mondiale per due volte consecutive, avendo portato a termine tutte le gare nei cinque continenti. Risultato di cui sono orgoglioso, soprattutto per essere stato l'unico italiano ad essere stato insegnito del prestigioso titolo, consegnato nella mia città natale direttamente dall'organizzatore Jerome Lollier, che ringrazio per la terza opportunità concessami. La gara in Norvegia, continua De Rosa, apre nuovi scenari e rinnova la possibilità di compiere una straordinaria impresa, per la quale sono grato innanzitutto ai miei due sponsor, amici e sostenitori di sempre. La gara si svolge nelle Alpi di Lingen, con traguardo sul lungomare di Troms, la città degli avventurieri. I partecipanti attraverseranno paesaggi di alte montagne punteggiati da prevalenti fior di blu. Negli ultimi chilometri i concorrenti vedranno inoltre la cattedrale dell'Artico ed attraverseranno l'iconico ponte di Troms, con viste mozzafiato sulla città, beneficiando del sole di mezzanotte con splendidi scenari della Norvegia settentrionale nell'abbagliante luminosità artica. La due giorni in Norvegia, conclude De Rosa, si aggiunge ad altre due ultramaratone che mi hanno visto partecipe da aprile ad oggi, l'Ailando Ultra in Scozia e la Jungle Ultra in Peru, entrambe disputate nel circuito inglese Beyond the Ultimate che si intreccia con quello di Canal Aventure.